questo sublime dramma ruota attorno al senso di morte e di lutto che avvolge troia in fiamme euripide seleziona per dar corpo la sua tragedia la voce dei vinti che riducono ai minimi termini dunque rendono universale il loro destino come quello di un intero popolo e magari di un intero mondo e cuba regina della città è divenuta schiava dei greci il piccolo astenate gettato dalle rupi perché troia non possa più tornare ai suoi splendori a far d'accordo le strazianti i voci delle donne troiane che elevano un ultimo canto di dolore sulla città morente troiane di oripide e la più densa bella e terribile tragedia greca si parla della guerra come dimensione terribile e orribile sulle conseguenze delle guerre sulle storture brutture delle guerre l'autore sempre con i vinti e fa una inflessibile condanna della strage degli innocenti che ogni guerra partorisce in maniera crudele